Pronto Grazie per la serenità Salve Non mi date il benvenuto no? Sto zitto sto sentendo Mi sta dando il benvenuto in questa bellissima azienda Ci penso io I corpi sono qui da pochi giorni Penso prima dell'attacco alla Black Station Hendrix è opera di Taylor Forse Colpi alla testa E che significa? Che cazzo? Non c'è neanche bisogno di chiederselo Certo che è opera di Taylor La CIA gli ha fatti togliere di mezzo perché ficcavano il naso Capito che è tuo amico ma chi se ne frega Sono solo di pessimo umore Rilevo una fonte MF nell'area Un piccolo dispositivo elettronico Forse è uno dei corpi Se fosse meno fastidioso Bello Bello L'ho andato Mi sincronizzo con i dati telemetrici del drone Ma c'è una schercia Perché come non funziona? Sai che io mi son buttato da crota Quindi non è che Vado avanti Ma si Più o meno Arrivo Arrivo Scusa Quel firmato del massacro Credi ancora che fosse un falso? Conosco Taylor da molti anni Ed è impossibile che sia stato lui Quella è stata opera di una mente malata Forse non è la persona che credevi tu Sara Ma che mi dici di Hall, Maretti e Diaz? Perché lo avrebbero lasciato fare? Andremo fino in fondo In un modo o nell'altro Non poteva farmi scivolare come lui No, doveva farmi con lo scattino Perché? 54 di merda ci hanno preceduti Cosa dovremmo fare? Credo sia ora di presentarsi Magari con una flashbang Qualcosa mi sta sul cazzo e non poco Pronti Non cade Cadi giù Porco C'è ogni 3x2 C'è questa cosa Invincibile Perfetto Andiamo Rifornimenti Che cazzo di buco stai cercando di infilarci Non lo so ma è abbastanza profondo Cazzo Mi spiegate come risaliamo se Occhi aperti L'ho appena intuito Che? Cazzo di buco stai cercando di infilarci Salve Io non vedo nessuno Comunque Io penso alla porta Tu va sotto Ok Se qualcuno fosse collegato ai sistemi della struttura Per controllare i robot Dubito che i sistemi siano ancora operativi dopo il disastro Dal numero di bombe che vedo Qui c'è un robottone gigantesco Il drone ricognitore dice che sono arrivati da qui Scommettiamo un centone che qui sotto troviamo merda appalate Guarda esce proprio da qua Ma che cazzo Hendrix Ce l'hanno con te Guarda esce proprio da qui Guarda esce proprio da qui Che? Non ha senso Chi sta controllando questi robot? Io non so Sto ancora triangolando la fonte Vi tengo aggiornati Sì, sì, lo so che sei tu, Cain. Quello. Ah, dobbiamo ancora scendere? Però. Ehi, che cazzo vuoi? Perché non mi salta più sui muri a me? Cain, abbiamo perso il feed. Qualche problema? Negativo. Quel posto non è mappato. Senza il drone siamo ciechi. Qualcosa lo ha messo fuori uso. O qualcuno. Stando al GPS il segnale è più avanti. Deeeh. Cain, abbiamo trovato il drone. O ciò che ne resta. Un bel gioco dura poco. Aspetta, voglio dare un'occhiata a quella roba. Ti dice niente? Sembrerebbe trattarsi di un progetto segreto della CIA. Se erano qui sotto al momento del disastro, nessuno è mai venuto a dare una ripulita. Alieni. Se qui qualcuno nasconde qualcosa. Il sangue porta di qua. Non so quale mi convenga per ora. Pronto. Che succede, Cain? Che cazzo! Che cazzo! No, la tip... Che siete? Zombie? Via, via, avanza! Via, via, avanza! Ahia, ahia! Ahia! Tipo neanche di essere patrini. Non sappiamo cosa c'è qui sotto. Cain, che cazzo hanno quei robot? Mai visto niente di simile. Non è nella loro programmazione. Credo che i parametri predefiniti di quei robot siano in qualche modo saltati. Giusto per sicurezza, no? Ok. Secondo il GPS, la fonte del segnale dovrebbe essere di là. Ok. Viola il pannello. Neh. Cazzarola, cosa c'è qua? Porca puttana. Hendrix, controlla quei pannelli. Potrei riuscire a estrarre qualcosa dai drive locali. Ok, Cain. Sei dentro? Questo è impossibile. Gli esperimenti di N.I. su soggetti umani non erano ancora in corso. Non ufficialmente. Beh. È un po' di mal di gola. Non credo fossero volontari. Sono tutti collegati a un server centrale. Jai Jong. Era il nostro uomo. Ma non ha senso. Per niente. Beh, era già morto. Come si spiegano quegli agenti della CIA ammazzati con il suo stesso modus operandi? Un minuto, Cain. La CIA ci fa chiamare. Ci assegna un contatto sconosciuto. E poi scopriamo un suo progetto segreto. Che senso ha? Hendrix? Che vuoi dire? Non lo so. Tieni occhi e orecchi aperti. Specie con Cain. D'accordo. Tu sospetti troppo di Cain e poco di Taylor, eh? Sì, Cain. Tutto ok. Bene. C'è attività di rete in una sala server qualche piano più in basso. Ehi! Meglio controllare. Andiamo. Andiamo.